Nella seconda prova dell'Alfa Revival Cup, svoltasi a Varano de Melegari il 22-23 giugno, non è certo mancato lo spettacolo. Chi pensava che la gara di apertura tenutasi ad Adria potesse avere riservato tutto quello che di bello offre l'automobilismo sportivo, si è dovuto ricredire. Roberto Arnaldi con la GT AM, Giacomo Corbellini con la Giulia GT Veloce e nella prima mezz'ora il duo formato da Massimo Guerra e Franco Mischis con la Giulia Sprint GTA, si sono scambiati le posizioni ogni giro. Quando sembrava che uno dei tre potesse prendere il largo, immediatamente avveniva il ricompattamento. Alla fine la vittoria è andata ad Arnaldi, che ha preceduto di quasi cinque secondi l'ha pagato Corbellini, mentre un mesto ritiro per la rottura del ponte posteriore costringeva Mischis, in quel momento alla guida, ad abbandonare ogni velleità di lotta. Così la terza posizione assoluta è andata al duo formato da Stefano Biondetti e Fabio Gimignani, anche loro nella bagarre con gli altri tre equipaggi. Poi lo spirito di conservazione della vettura da parte di Gimignani consigliava a quest'ultimo di limitarsi a controllare la posizione, per cedere comunque la vettura a Biondetti con un buon margine di vantaggio sugli immediati avversari di classe Tassi-Tarabini, alla fine quinti assoluti. Tra le vetture più ammirate, certamente la Giulia GT veloce di Walter e Massimiliano Marelli, nei colori originali del preparatore Monzeglio. Felice debutto nell'Alfa Revival Cup quello di Andrea Guarino e Federico Buratti, noti per essere impegnati nel Challenge Formule Storiche, che con la Giulia TI si sono imposti nella classe precedendo un altro duo formato da piloti solitamente di monoposto, quello di Francesco Liberatore e Francesco Zadotti. La gara ha visto al via 15 amanti dell'Alfa, altri piloti possibili protagonisti sono stati tenuti lontani dalla manifestazione a causa di impegni irrinunciabili. Per il vincitore il fine settimana era iniziato con la rottura della leva del cambio e in gara è venuta a mancare la seconda marcia. La capacità di guida degli avversari, Corbellini e Guerra hanno contribuito a rendere ancora più dura la gara di Arnaldi. L'appuntamento di Varano è stato utile anche per premiare i vincitori dell'Alfa Revival Cup 2012, a cominciare dal giovanissimo Felice Yelmini, vincitore assoluto nel 2012. Un riconoscimento particolare è stato assegnato alla scuderia Biondetti di Firenze, che con i suoi piloti ha creduto fin da subito alla proposta della GPS Classic, una proposta che raccoglie indubbiamente consensi.